Il Comune alla ricerca di soluzioni per impedire che si ripetano episodi come quello del difficile intervento di soccorso dei Vigi del Fuoco per spegnere un incendio in una pizzeria impossibilitati a raggiungere Piazza Duomo a causa delle autoparcheggiate del cantiere. L'assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella prende l'impegno di convocare a brevissimo giro un incontro tra Vigi del Fuoco e Polizia Municipale per studiare delle soluzioni. Fermo restando che la ricostruzione deve andare avanti così come le migliorie che stiamo apportando a tutte quante le piazze dell'Aquila. il Comando di Polizia Municipale invia in maniera immediata tutte quante le ordinanze di chiusura non solo ai Vigili del Fuoco ma anche al 118 piuttosto che agli altri alle forze dell'ordine. Oltre a questo abbiamo pensato in questi giorni subito dopo l'accaduto di aprire anche un'interlocuzione proprio con queste forze soprattutto con i Vigili del Fuoco e il 118 per fare in modo di sederci a tavolino e vedere dove sono tutte quante queste criticità. Partirà infatti a breve una lettera da parte del Comando di Polizia Municipale indirizzata proprio a queste categorie per cercare di capire come fare e trovare delle soluzioni per fare in modo che dove ci sono delle criticità riusciamo a trovare delle strade alternative. Ci sono anche tavolini e deorsi in centro storico per permettere ai commercianti di lavorare anche in questo caso forse c'è qualcosa da rivedere. La problematica seria perché i cantieri in centro storico non si contano più. Nelle principali vie e piazze ci sono operazioni di restyling in corso con cambi di viabilità e sensi di marcia che non aiutano. In centro ci sono anche delle fioriere che spesso impediscono il passaggio dei medi di soccorso ma anche per questo c'è una soluzione, afferma la Cucchiarella. Intanto la faccenda diventa anche politica perché il consigliere Polo Romano ha chiesto la convocazione della seconda commissione consigliare proprio per discutere di queste problematiche legate alla sicurezza. Nei prossimi mesi verranno installati i primi varchi elettronici fermo restando che le pratiche hanno un iter lungo ma in tutte quante le ZTL le fioriere verranno sostituite appunto da questi apparati in maniera tale da scongiurare appunto gli ingressi illeciti e consentire quindi ai mezzi di soccorso di poter accedere in tranquillità e sicurezza.